Ormai il valico di frontiera di Kuznitzwa tra Polonia e Bielorussia è un pericoloso collo di bottiglia sul punto della rottura, intasato da migliaia di migranti, soldati più o meno volontari, di una guerra ibrida di NATO e Unione Europea da una parte, contro Bielorussia e Russia dall'altra. La Polonia accusa le forze di sicurezza di Minsk che accompagnano i migranti dalle foreste fino alle porte dell'Europa, incoraggiandoli a sfondare. Hanno ragione i nostri giornalisti, come altri, a trarre la conclusione che la Polonia ha bisogno di un conflitto in questo momento. Ha gravi problemi interni per non parlare di quelli con l'Unione Europea, mentre c'è una folla di persone ammassate ai suoi confini dove si spara. Noi non vogliamo conflitti lungo le nostre frontiere. E a proposito di spari, la nostra corrispondente ha raccolto le voci che circolano nel lato polacco del confine. Circolano molte voci preoccupanti provenienti dalla Bielorussia. In mattinata, ad esempio, si diceva che soldati bielorussi avrebbero offerto delle pistole ai migranti, dicendogli di attraversare il confine e non esitare ad aprire il fuoco se fermati dalle forze di sicurezza polacche. Ma secondo altre informazioni, i richiedenti asilo inviano messaggi assicurando che non hanno nessuna intenzione di cedere a questo tipo di pressioni e vogliono evitare a tutti i costi la violenza. Il Ministero degli Interni di Varsavia ha reso noto che in dicembre la Polonia inizierà la costruzione di un muro lungo la frontiera con la Bielorussia. Il Vallo Orientale dovrebbe essere completato nei primi sei mesi del 2022. Il Vallo Orientale dovrebbe essere un muro lungo la frontiera con la Bielorussia.